Grazie per essere qui, scusate il cambio di luogo rispetto all'idea iniziale che era San Giovanni che immagino che per molti di voi fosse più vicino, qui stiamo un po' in Finibusterre, però del resto siamo nel regno di Don Daniele perché siamo nel cuore del settore nord. Il cambio era dovuto a un problema di numero, purtroppo non abbiamo molte sale da usare della diocesi, di solito andiamo al seminario romano, ma la sala conferenza del seminario romano ci si entra in 70, 80, 90, siccome le iscrizioni erano molto superiori allora la sala di Iberia era occupata e quindi abbiamo cercato altrove, quindi grazie per la presenza comunque, grazie a Don Daniele perché sta con noi questa mattina. Allora questa mattina come vi abbiamo detto negli ultimi due giorni è dedicata non tanto all'ascolto di noi che vi dobbiamo dire cose, quanto a un dialogo, una condivisione e un'elaborazione da parte vostra. Cominciamo da questo libretto, così ci allineiamo su questo qui, immagino che qualcuno già ce l'abbia presente, ma vi invito a prendere un attimo l'indice che è proprio all'inizio. Ricordatevi dicevamo ci sono tre parti, se vedete la prima è la preparazione e la celebrazione del battesimo. Quello che ci interessa è soprattutto in questa parte la preparazione prossima, se vedete a pagina 22 c'è il primo incontro di preparazione in casa dei genitori, che sarà di questo bambino, solo in Cristo trova vera luce il mistero di una nuova nascita. Ce l'avete? Sì. Poi a pagina 31 c'è il secondo incontro in casa, i genitori e i primi educatori dei figli alla fede siete consapevoli di questa responsabilità, il terzo incontro, il rito del battesimo. Abbiamo parlato di questo soprattutto giovedì sera, del senso, dell'importanza di valorizzare anzitutto l'esperienza che stanno vivendo loro, che nel caso soprattutto di un primo figlio è molto nuova, ma come ben sapete anche il secondo, ogni volta c'è qualcosa di nuovo, di bello, cambia il momento della vita, quindi è importante sempre raccogliere l'esperienza di vita e illuminarla con la fede. La parte seconda sono dei testi che possono essere utili per coloro che, appunto, per questo momento di preparazione ci sta qualche indicazione liturgica, c'è una nota sulla scelta dei padrini, un tema, tema scottante. Lettera del parroco ai genitori che chiedono il battesimo per i propri figli, insomma alcune cose che possono essere utili. Terza parte, invece, letteri video da inviare ai genitori con bambini fino a tre anni, è un po' il tema di cui abbiamo parlato ieri, cioè di come accompagnare, in qualche modo fare qualche proposta per le coppie che hanno battezzato i figli. Quindi in questo caso ci muoviamo nell'ambito non tanto della pastorale battesimale, in senso stretto, quanto della pastorale familiare con le coppie giovani. Però è ovvio che noi dobbiamo avere una visione unitaria, no? Sarebbe assurdo dire, no, io devo prepararli al battesimo, basta, no? Cioè, non ha senso, no? Quindi proviamo a guardarla in modo integrato. E in questa terza parte, quello di cui parlavamo ieri sera, qui ci sono in realtà delle lettere su dei temi, perché l'idea è che il minimo che potrebbe fare una parrocchia è ogni tanto mandare una lettera ai genitori che hanno battezzato i figli su un tema. Chiaramente non è che bisogna fare così, questo è proprio il minimo. Qual è il minimo modo per rendersi presenti? Mandarvi una lettera. Ma come dicevamo ieri, l'ideale sarebbe invece avere un minimo di relazione personale e alcune occasioni in parrocchia, sia rituali, una messa, sia di incontro più fraterno. Queste cose che vi stiamo dicendo, sia sul pre che sul post, prendetele come uno spunto, cioè come qualcosa che vi può aiutare a voi nella vostra parrocchia a pensare. Non è che assolutamente stiamo dicendo si fa così, non è questo il senso della cosa, ok? Semplicemente come uno spunto a tutti quanti per pensare. Allora, che cosa facciamo questa mattina? Cominciamo riflettendo un attimo sulle due serate che abbiamo fatto, ma a livello della vostra esperienza in parrocchia. Quindi vi chiederemo, adesso ci dividiamo in gruppi, in modo da avere la possibilità di parlare tutti quanti, di non essere troppi, e ragioniamo su questi due punti, cioè sulla preparazione e sul post. Quindi, nella nostra parrocchia, la preparazione al battesimo, come va, come ci sembra rispetto a quello che ci siamo detti in questi giorni? Quali sono i punti deboli, quali sono i punti forti, no? Qual è una bella esperienza che facciamo noi, che possiamo raccontare agli altri, che magari può essere utile agli altri di ispirazione? Che cosa abbiamo capito? Vi ricordate il video che abbiamo sentito ieri sera? La coppia diceva, noi abbiamo cominciato in un modo, e poi invece abbiamo capito che era meglio un'altra cosa. Sono preziose questi cambiamenti, questi fallimenti e questi tentativi, sono preziosi per tutti quanti. Quindi rispetto al pre, che cosa c'è di, come siamo collocati noi nella preparazione? E poi anche rispetto al post, c'è da noi una qualche proposta, che cosa c'è o se non c'è, che cosa pensiamo che potrebbe essere fattibile? Dovremmo fare, dovremmo fare un percorso, dovremmo fare, no? Ma che cosa invece ci sembra fattibile, una cosa che si potrebbe effettivamente provare a fare? Non nel senso che strettamente dobbiate farla voi in prima persona, sono cose ovviamente che dipendono dal parroco, dal viceparroco, insomma dall'impostazione della parrocchia, dal gruppo dei catechisti, no? Però certamente voi siete quelli più, che siete quelli che avete il polso della situazione, perché conoscete le coppie, siete quelli che più potete pensare e che cosa può essere utile per queste coppie. Ricordiamo, il nostro criterio non è dobbiamo avere più gente in chiesa, dobbiamo tenere una volta che abbiamo agganciato una coppia, perché quelli sono venuti a chiedere battesimo, ah ah, mo sei mio, sei finito nella tela del ragno, non ti lascio scappare. Non è questo il senso, ovviamente, ma quello di una proposta di un luogo vivibile, sensato, utile per la vita, nel quale puoi avere degli stimoli che magari altrove non hai. Quindi è una proposta che facciamo anche per il post, uno fa un paio di proposte, poi o va o non va, come tutte le relazioni, non è che uno sta là a rompere le scatole alla gente. Quindi semplicemente sono delle occasioni che noi offriamo senza alcun desiderio di proselitismo spinto. Quindi, come prima cosa, quindi prima cosa dite chi siete, che parrocchia siete, poi nella nostra parrocchia, sulla base della nostra esperienza di catechisti del battesimo, che ci sembra della preparazione al battesimo rispetto alle idee che ci siamo scambiati giovedì sera? Punti di forza, punti deboli, esperienze belle da condividere. Che ci sembra sul post-battesimo? C'è una forma di pastorale familiare nella nostra parrocchia nella quale sarebbero invitabili le coppie che abbiamo o quali idee ci vengono in merito? Ok? Questa è la cosa. Terzo punto, nella mia esperienza personale di catechista che fa le preparazioni ai battesimi, qual è la cosa più bella che ho scoperto, che ho vissuto o che sto vivendo? Ok? Che settore è? Allora, uno dei due... Est uno... No, no, no. Allora... Tu come ti chiami? Presentati tu e poi... Allora, sono Silvia della parrocchia Santa Maria Auxiliatrice. Diciamo che sono stata caldeggiata per fare... Spontaneamente. Sì, spontaneamente. Allora, nell'incontro che abbiamo avuto sono emersi due punti fondamentali. Allora, innanzitutto voglio dire che quasi tutte le parrocchie sono allineate con quelle che sono le disposizioni delle diocesi, perciò i tre incontri e alcune hanno avviato da tempo o si apprestano a farlo anche agli incontri post-battesimi. Il punto però principale è emersa la difficoltà di reperire i catechisti e di avere anche un ricambio generazionale. Questo lo dico con un po' di polemica, rifacendomi alla frase che ha detto proprio Don Andrea Cavallini, che è un gruppo dell'anonimato. I catechisti del battesimo fanno parte di questo gruppo, non sono mai presentati come gli altri catechisti. Perciò anche reperire persone che vengono a fare questo servizio, almeno anche qui nella mia parrocchia, è sempre un po' difficile. Tra l'altro anche per via degli orari, perché noi catechisti del battesimo ci dobbiamo adeguare un po' a quelle che sono le esigenze di chi chiede il battesimo, sia per i giorni che per l'orario. Altro punto, la difficoltà negli incontri post-battesimo, dove non c'è tutta questa affluenza, dove si fa fatica a far entrare nella mentalità di queste coppie che si presentano, nel desiderio di un cammino. Abbiamo una risposta, almeno anche per quanto riguarda la mia parrocchia, da parte di quelle coppie che già di per loro sono ben entrate nel cammino di fede, perciò hanno fatto bene nel corso dei fidanzati, sono sposati in chiesa, le altre coppie che si presentano, che sono circa il 95% di famiglie accoppiate, libere, con dei rapporti molto liberi, e lì ci giochiamo tutto perché alcune volte riusciamo a farli venire per una questione di empatia che si forma nel gruppo o nel catechissimo col parroco o proprio tra di loro. Però quella è una grande difficoltà che ho visto che si riscontra anche nelle altre parrocchie. Credo, non so che... Ho detto tutto? Sennò dopo mi dilungo troppo. Andiamo avanti, sentiamo di seguito tutti i segretari, così poi parliamo a partire da quello che dite voi. Allora, in estrema sintesi... Tu sei... Io sono Elena Catapano, Santa Emerenziana e quindi tutto... Nord. Sono la mamma di Rigotti, Noemi, che è stata una sua allieva al Giulio Cesare. Allora, in estrema sintesi, diciamo che il Covid ha creato un po' una spaccatura molto profonda tra quello che si faceva prima e dopo, come in tutte le aree della nostra società. E più o meno gli standard sono uguali, sono anche quelli che ci siamo raccontati nei due incontri online. Ci sono diverse situazioni, diverse strategie, perché spesso sono diversi anche i contesti, parrocchie grandi, parrocchie piccole. Però in linea generale, quasi tutti facciamo due incontri con i catechisti e uno almeno col parroco. Ci si alterna, cioè ogni parrocchia ha la sua strategia, qualcuno lo fa a casa, però in questo modo segue una cosa individuale, no? Una coppia di catechisti con una coppia di famiglie che chiede il battesimo. Invece, come nel nostro caso, ma in tanti casi della nostra prefettura, si fa in parrocchia, perché diciamo che la razio è quella di creare la relazione tra le varie famiglie. Noi cerchiamo di mettere insieme sei, sette coppie laddove è possibile per creare tra di loro un gruppo. Noi siamo un ponte, non possiamo sostituirci. E poi, secondo me, questo è un pensiero personale che ho condiviso, ma che mi piace condividere anche col Vescovo, cioè i parrocchiani devono abituarsi che la parrocchia non è del parroco, ma è la casa di tutti noi. Noi abbiamo appena festeggiato 25 anni di matrimonio e nei miei ringraziamenti io ho ringraziato la parrocchia e quelli che la animano, perché per noi, per me e Gianpaolo, la parrocchia è una seconda casa, ma lo dico davvero. Ed è importante che queste giovani coppie non la vedano solo come luogo della messa o il luogo ricreativo. La parrocchia deve diventare un riferimento dei nostri cuori, quindi spostare questi incontri in parrocchia ha un suo perché. Ecco, quindi questo era un punto. Un altro punto che è emerso è la figura del parroco. Cioè, questi incontri sono quasi tutti affidati a noi catechisti, che viviamo anche un po' di affanno, perché alla fine siamo pochi i collaboratori parrocchiali e quei pochi che ci sono si trovano anche sobbarcati di tante cose. Cioè, alla fine siamo sempre gli stessi, consiglio pastorale, equip, catechisti. E questo ci fa sentire veramente affannati, no? E quindi anche l'importanza della figura del parroco in tutto questo. Ma poi emergeva nel nostro gruppo una grande diversità. Cioè, ci sono parrocchie che hanno un parroco, dei viceparroci, degli aiutanti. E parrocchie, dove c'è, tipo nel nostro caso, ma anche in altri, c'è un parroco solo che, poveretto, non so, insomma, ovvio che poi si affida a noi. Però la figura del sacerdote, proprio come figura di riferimento, ha un'altra importanza, ha un altro valore. Le coppie ci chiedono del sacerdote. Quindi, insomma, questa era una cosa da non sottovalutare. Quasi in tutte le parrocchie c'è questo post-battesimo che si orienta un po' come lei ci ha raccontato e come le testimonianze che abbiamo sentito in queste due serate. Spesso facevamo un po' questa messa per il battesimo di Gesù con incontri conviviali. Però, insomma, vanno, non vanno, vanno alternati. Più o meno ci sembra che, sebbene le differenze, le criticità e i punti di forza sono un po' tutti uguali. Però, la cosa bella, le tre domande che lei aveva posto, tutti abbiamo detto che, nonostante questo senso di fatica, nonostante ci sembra che poi i frutti non siano così tanti, in realtà c'è sempre la bellezza dell'incontro. I frutti, sebbene sembrano pochi, in realtà sono preziosi. perché poi, magari dopo alcuni anni, si rincontrano queste famiglie. E, non lo so, è vero che i numeri non sono, diciamo, non dobbiamo fare proselitismo forzato, come lei ci ha ricordato, però ci piacerebbe contagiare questo amore, questa grazia anche con altre famiglie. A chi tocca? Allora, settore nord, in più noi abbiamo l'appendice del... Francesco. Io sono Francesco, di Acono, parrocchia San Mattia. Abbiamo anche la... Scusa, abbiamo l'appendice della diocese di Porto Santa Rufina con due parrocchie. Allora, eravamo del settore nord, otto parrocchie. Alcuni punti fermi. Quasi tutti hanno tre incontri. Alcuni sono a due nel post-pandemia, qualche d'uno ha ripreso addirittura quattro e cinque incontri. Le coppie dei catechisti siamo da due coppie fino a Gesù bambino a quattordici. Non so, però non hanno spiegato dove le comprano. Quindi, con varie realtà, insomma, l'ossatura dei catechisti è presente in tutto e questo è venuto fuori è una cosa molto importante. Chiaramente in ogni realtà è presente sia un presbitero che può essere il parroco. Eravamo lì nel nostro gruppo tre diaconi. I diaconi, come dicevo a Don Daniele prima, siamo abbastanza coinvolti nella pastorale del battesimo. cosa è emerso? C'era anche un collaboratore Don Anselmo in Sant'Alberto Magno alcuni punti fermi per esempio la spiegazione del rito avviene in modi diversi ma in tutte le preparazioni il primo incontro in genere è un incontro di relazione conoscenza e scambio e anche di testimonianza da parte dei catechisti quasi tutti fanno la festa del battesimo del Signore come momento di incontro nel post battesimo ci sono cose diversificate chi propone cose che ci sono già in parrocchia e chi invece sta cercando di fare dei percorsi propri che scaturiscano dalla preparazione al battesimo una cosa che ci è sembrata interessante che c'è si cerca di fare un rapporto tra i corsi di preparazione al matrimonio e quelli al battesimo in che senso che i catechisti del battesimo vanno una volta almeno in un paio di parrocchia è emerso questo a presentare alle giovani coppie che si sposeranno l'importanza di prepararsi poi al battesimo e questa cosa l'altra cosa che è emersa è la problematica nella scelta dei padrini che è una cosa molto impegnativa per i catechisti perché non c'è una consapevolezza su chi è il padrino quindi presentano tutte le persone possibili e immaginabili presentano più dei compagni di merenda amici dei genitori che dei padrini e in diverse parrocchie anche noi a San Mattia abbiamo iniziato a farlo anche per avere un contatto con questi padrini sfruttare questa possibilità li prepariamo alla cresima quindi per esempio noi al secondo anno ma anche altre parrocchie non mi ricordo un paio hanno detto sì anche noi lo stiamo Santa Gemma e anche un'altra lo stiamo facendo perché è un'occasione per incontrare queste persone che altrimenti a prescindere che facciano da padrini però intanto le incontriamo una cosa che noi per esempio non facciamo ma l'abbiamo sentito da diverse parrocchie è la benedizione delle pance io ho detto scherzando da noi vengono già che hanno partorito quindi però in una parrocchia Gesù Bambino mi sembra la fanno due volte l'anno prima di Natale e la domenica in Albis dove rinvitano queste cose anche Santugo la fanno però dando l'avviso nelle messe venite se volete altre cose col passaparola altre cose non mi sembra grazie ok grazie poi c'è tempo dopo di aggiungere qualche cosa sentiamo un altro settore settore ovest io sono Antonella della parrocchia San Francesco Monte Mario era ovest e sud tra ovest e nord sud ah sì nel gruppo sì lo stavo per dire scusatemi 11 realtà diverse in parte della zona ovest una del centro e anche rappresentato il sud di Roma quindi una presenza sul territorio molto varia anche come tessuto sociale abbiamo alcune parrocchie con un tessuto sociale di livello medio alto molto compatto come presente e altre parrocchie invece molto più giovani e con un tessuto sociale variegato chiaramente più le coppie sono giovani e più hanno problemi di tempo perché lavorano moltissimo e questo è già un problema chiaramente tutti i catechisti hanno più o meno raccontato nelle loro esperienze di dare molta disponibilità alle coppie la base sono più o meno i due o tre incontri previsti in tutte le parrocchie secondo le indicazioni della diocesi i catechisti però in questo caso sono molto disponibili nell'arco della settimana in base alle esigenze della coppia spesso le coppie non sono sposate e addirittura abbiamo casi di coppie che non vivono nella stessa casa e quindi le esigenze sono veramente variegate tutto quello che avete già sentito si è ripetuto anche nel nostro gruppo aggiungo che è emersa anche l'esigenza di indicazioni dalla diocesi a cui si attengano i parroci perché la libertà che i parroci che hanno nell'organizzazione della catechesi del servizio di catechesi in generale non solo nel campo del battesimo fa sì che soprattutto in un settore come il nostro Ovest in cui ci sono più parrocchie sullo stesso territorio la gente scelga in base all'offerta laddove il percorso è più breve si va questa è una cosa che è emersa tutti i catechisti chiaramente hanno esperienze positive nell'incontro con le coppie nasce molto spesso la problematica di essere di supporto alle coppie e su questo chiaramente nelle parrocchie dove c'è una presenza massiccia di realtà di proposte è più facile inserire la coppia a seconda del percorso che il catechista individua inserirla in un gruppo laddove ci sono parrocchie dove non c'è una grossa presenza di attività chiaramente il percorso diventa minato se non impossibile poi chiaramente come tutti il post-covid ha messo a zero anche le esperienze positive precedenti quindi siamo tutti un po' alla ricerca di un rinnovamento grazie chi altro abbiamo almeno un est ci manca eccoli allora sì non mi ripeto sulle cose che hanno detto gli altri dico solo che nel settore est e abbiamo tutti sperimentato molto il prima covid e il post-covid perché non ci fanno più entrare nelle case abbiamo questa esperienza generalizzata e quindi è una gran perdita questo perché si andava a trovare famiglie anche molto lontane e anche dalle parti nostre siamo molto marginali il settore est ci sono parrocchie proprio di estrema periferia era trovare coppie che fanno i pendolari che perdono tantissimo tempo per andare al lavoro per rientrare per portare i bambini all'asilo nido e quant'altro e quindi andare nelle case era proprio un andarli a cercare e questo era il feedback che avevamo e questo adesso proprio non vogliono più noi glielo proponiamo ma non si fa e l'altra cosa che abbiamo verificato tutti abbiamo condiviso è che la realtà sta molto cambiando e noi in periferia ce ne accorgiamo forse di più e abbiamo tantissime donne sole e giovani anche con figli abbiamo anche realtà multietniche sempre più forti più presenti che chiedono di essere accolte in parrocchia e quindi il catechismo del battesimo si sta trasformando si sta attrezzando nel caso nostro di Dorsapienza noi come gruppo di battesimo siamo più la manovalanza nel senso che le catechesi per gli adulti del battesimo vengono affidate a coppie belle e forti e con una grande esperienza e noi invece appunto accogliamo proprio anche più lontani per dire io e mio marito siccome abbiamo una forte esperienza e abbiamo le coppie più strane più difficili ci affidano e adesso che c'è il post covid ci capita molto spesso di andare in parrocchia aspettarli e non viene nessuno due tre quattro volte poi alla fine li lasciamo all'incontro col prete e li finisce però ecco è un'esperienza nuova prima non succedeva seguiamo tutti come modello quello che ci avete offerto voi uno, due, tre incontri più o meno lo schema è quello come esperienza del post battesimo alcune parrocchie hanno delle esperienze molto belle ne parlo perché io non ero a conoscenza mi hanno molto incoraggiato tipo quella curata dal diacono che fa l'ultimo incontro come annuncio e poi seguono le coppie con i bambini e portano questi bambini da zero a sei anni anche se ho capito che dopo il covid è diventato un po' difficile e anche la parrocchia piccola di Cinecittà Est riesce a creare una rete tra le coppie per esempio loro non vanno per le case ma aiutano tutte le coppie che hanno i bambini da battezzare a conoscersi a seguirsi perché poi il quartiere a quanto ho capito è piccolo quindi i luoghi di incontro da scuola al nido il supermercato sono quelli e quindi riescono in questo modo da noi per dire a Tor Sapienza è molto molto più difficile per tanti motivi di logistica di spostamento e quant'altro e l'unica cosa che voglio dire è che anche negli incontri online anche qui è saltato fuori la necessità di accostare i giovani ed è venuto fuori quasi una sorta di volontà di rottamare noi catechisti un po' vecchi ne parlo in prima persona perché ho i capelli bianchi allora lo dico perché è un sentire molto diffuso che non condivido personalmente adesso dico la mia cosa personale nel senso che noi per esempio facciamo tutoraggio con i giovani e devo dire l'ha detto pure una sorella che è molto gradito ai giovani perché sì hanno tanta buona volontà però non gli dispiace mica che vengano poi stradati coccolati aiutati perché diventa anche un aiuto personale e poi questo del battesimo è un servizio quindi non è che abbiamo niente di nostro da tenere o da conservare da togliere agli altri per cui facciamo attenzione anche quando diciamo ci vorrebbero coppie no tanto le cose succedono quando non potremo più farlo per tanti buoni motivi non lo facciamo più anzitutto grazie per il vostro contributo io cerco di di darvi un un immediato feedback rispetto a quanto avete condiviso e allo stesso tempo di condividere a mia volta rispetto alle esperienze che finora ho vissuto in quest'ambito della catechesi così come anche ciò che mi arriva dalla diciamo così dalla dall'aver ormai anche su questo avuto dei contatti con le parrocchie del mio settore allora inizierei anzitutto dicendo che come ho già condiviso quando abbiamo avuto l'assemblea dei catechisti al divino amore e ci siamo ibernati e qualcuno si è anche ammalato per capirci qual era a quale assemblea mi riferisco teniamo presente un dato di base ovvero che la catechesi in preparazione al battesimo è per una famiglia il primo dei dei grandi collanti che ancora rimangono con la comunità ecclesiale perché vi dico questo perdonate la franchezza però è molto importante ricordarci che noi non possiamo più vivere il nostro servizio in particolar modo nella catechesi con quella definizione così a volte rigida dei ruoli o dei contenuti oppure anche delle aspettative che spesso invece ci portiamo dentro che abbiamo nel cuore cioè vorrei dire questo proprio all'inizio per dirvi che è molto importante concepirsi quindi che voi vi concepiate non tanto come dei catechisti ma come degli evangelizzatori anche se questo è l'ufficio catechistico e per il catecumenato anche se abbiamo rivolto l'invito a voi che siete i catechisti per il battesimo ma è molto importante che nella modalità con cui vi vedete siate piuttosto consapevoli che si tratta spesso di qualcosa di molto simile al primo annuncio ok questo potrebbe modificare molto l'approccio che voi avete perché anzitutto vi porterebbe a dire mi trovo di fronte ad una famiglia anche molto variegata a volte anche monogenitoriale ma chiamiamola ancora così che sta venendo in chiesa per chiedere il battesimo per un bambino e che probabilmente altrimenti non verrebbe questo significa che nella mia testa è meglio togliere ogni giudizio o pregiudizio ed è meglio ed è quindi ancora meglio accogliere la meraviglia di sentirmi come uno degli apostoli che è chiamato dalla provvidenza a fare un annuncio correlato a questo primo dato cioè al dato dell'identità dell'annunciatore della vostra identità c'è un altro dato che la scrittura ci pone ovvero l'aggancio è il battesimo del bambino ma io non posso sapere che cosa si genera o si sta generando dal punto di vista della fede nelle persone a cui io mi sto rivolgendo posso cioè mettere in conto che questo annuncio agganciato dalla richiesta del battesimo per il figlio non sia un annuncio accolto perché questo nella scrittura c'è capite quindi posti questi primi due dati il dato dell'identità e il dato scritturistico della recezione dell'annuncio posti questi primi due dati capite bene che è fondamentale che questi appuntamenti per voi siano anticipati dalla preghiera cioè che vi assumiate a pieno titolo il ruolo di mediatori di annunciatori di un messaggio che non è il vostro perché non l'avete generato voi ma voi l'avete ricevuto certamente porto un esempio concreto diciamo cronologicamente vicino a noi ovvero il primo testo della liturgia di domani quinta domenica del tempo ordinario scusate del tempo di pasqua anno a atti degli apostoli che su questo rimane un testo miliare c'è un problema perché i discepoli di lingua greca si lamentano con quelli di origine ebraica per il fatto che non c'era lo stesso servizio di carità rivolto a loro come a quelli di origine ebraica quindi c'è un problema della comunità gli apostoli dicono non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense cioè capiscono qual è il loro ministero non è tutto ma il loro ministero è il servizio della parola di Dio non è giusto che trascurino questo per servire alle mense dunque bisogna cercare sette uomini di buona reputazione pieni di spirito e di sapienza ai quali affideremo questo incarico noi ci dedicheremo alla preghiera al servizio della parola piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelgono i sette futuri diaconi tra cui si trova Stefano ma c'è poi anche Filippo che incontreremo al capitolo 8 li presentano agli apostoli quindi presentano questi candidati agli apostoli e poi dopo aver pregato impongono loro le mani è esemplare questo testo che ci ricorda dell'ordinazione dei primi diaconi nella chiesa perché non solo ci fa capire che di fronte alle difficoltà lo spirito ispira alla chiesa nuovi ministeri e nuovi carismi ma anche ci spiega le modalità con cui questa ispirazione si realizza che avrete notato sono essenzialmente legate alla preghiera e alla liturgia pregano impongono le mani chiedono che i prerequisiti siano l'essere pieni di spirito santo e di sapienza di Stefano si dice era infatti pieno di spirito santo e di fede questa definizione del contesto che è vero è rivolto ai primi diaconi della chiesa ma è esemplare per tutti noi cioè per tutti i ministeri e i servizi perché se noi non ci disponiamo alla preghiera se noi non ci disponiamo alla uso un termine forse un po' troppo brutale però a raccogliere lo spirito santo e ad esserne recipienti la conseguenza immediata è che noi ci sentiamo i protagonisti dell'annuncio e con molta facilità arriviamo a portare noi stessi le nostre convinzioni i nostri punti di forza la preghiera ricordiamocelo sempre è per noi tutti un'esperienza di umiltà perché ci relativizza cioè quando noi ci disponiamo a pregare di fatto ci stiamo relativizzando cioè è come se ci autoeducassimo a dire non dipende tutto da me e questo è profondamente un'esperienza di ridimensionamento della nostra persona quindi la pedagogia della preghiera non è soltanto qualcosa che è bene fare perché si fa ma è una pedagogia che dice qualcosa all'annunciatore capite perché lo ridimensiona gli dà il suo posto e non gli dà il posto di Dio e normalmente in questo caso l'annunciatore diventa colui che non lo dico idealizzando né sognando ma lo dico per esperienza l'annunciatore diventa colui che assiste a cosa sta compiendo la grazia di Dio nelle persone che ha davanti cioè paradossalmente se noi ci disponiamo a questo tipo di approccio sentiamo proprio che la grazia del Signore si comunica alle persone che vengono lì e che stanno ricevendo anche attraverso di noi un primo annuncio questa grazia si comunica e noi la come dire la vediamo la notiamo ne siamo quasi gli spettatori direi addirittura passivi perché vediamo che questa cosa sta passando attraverso di noi ma che non dipende da noi e sta toccando il cuore delle persone che abbiamo davanti sembra addirittura amplificato il pianto c'è un microfono incorporato quindi questo lo dico come come presupposto direi legato all'identità e oltre alla prima conseguenza cioè al fatto che quasi diventate spettatori di questa grazia che passa attraverso di voi e tocca il cuore delle persone che avete davanti il secondo passaggio correlato a questo è che capite bene quanto sia importante l'uso della parola di Dio nella catechesi prebattesimale al battesimo perché la parola di Dio soprattutto quando condivisa che voglio dire in questo dicendo questo che non deve essere una parola di Dio che manipolate subito voi e direi in modo esclusivo voi cioè al di là dei testi che sceglieremo Don Andrea vi consigliava Giovanni 1 e poi in particolare che cercate venite vedete ci sono tantissimi testi che possono aiutarci in questo perché no anche i testi del battesimo degli adulti che appartengono ai Vangeli dell'anno A di Quaresima quindi la Samaritana il cieco nato l'Azzaro anche quelli sono molto adatti ma dicevo al di là del testo che sceglieremo è molto importante che la parola di Dio non sia esclusivamente manipolata da me che sono il catechista o l'annunciatore come se io la lavorassi e la offrissi a loro pensando che come faccio con un bambino gli devo dare l'homogenizzato perché se no non lo mangia perché l'efficacia della parola di Dio si misura soprattutto per il fatto che una volta che io ho scelto il brano e l'ho minimamente introdotto ma veramente minimamente possa appunto ci possa risuonare nel cuore delle persone che ho davanti quindi è molto importante che l'ascolto della parola sia presente nei nostri incontri e che abbia uno spazio adeguato di tempo per poter perché la persona si lasci incontrare dalla parola stessa questo significa ve lo dico giusto per scrupolo significa che magari sarebbe bene che ce l'abbia davanti che io gli fotocopi il testo che non lo legga soltanto ma ce l'abbia davanti e che ci sia un po' di silenzio e io non avrò paura del silenzio perché è un silenzio anche di ascolto della parola e quindi che ci sia un po' di tempo in cui le persone la leggono e poi magari possano condividerla possano condividerla all'interno del gruppo sono molto d'accordo con chi diceva che il ritrovarsi in chiesa ha un di più perché permette una esperienza comunitaria alle coppie e l'esperienza anche qui mi insegna che è molto interessante perché si ridimensionano le aspettative cioè una coppia magari si sentiva piena di difficoltà nel credere o nell'approcciare alla comunità quando sente che stiamo tutti sulla stessa barca si rasserena un po' e questo chiaramente la dimensione comunitaria dell'incontro in parrocchia lo permette vorrei dirvi questo il tema covid è un tema un po' ambivalente facciamo attenzione a non utilizzarlo come una sorta di paravento dentro il quale ci nascondiamo perché di per sé l'esperienza del covid ci ha dato uno scrollone molto utile cioè ci ha a mio avviso anche nel percorso sinodale è stato un elemento che ha accelerato gli effetti del percorso sinodale perché se il percorso sinodale ci chiede di non procedere più con la modalità si è sempre fatto così il covid in questo ha provocato un'accelerazione alle nostre comunità parrocchiali perché ci ha costretto a non poter più fare quello che avevamo sempre fatto ma tornando all'esperienza eh fontale del fatto che noi siamo a servizio dell'annuncio e che noi siamo strumenti dello spirito santo possiamo immaginare che il covid sia di ostacolo cioè è evidente che ponendoci di fronte a delle difficoltà ci dice non puoi più fare come è sempre fatto ora cerchiamo di capire cosa ci ispira lo spirito per continuare la nostra opera evangelizzatrice perché dico questo perché in realtà dal punto di vista delle aspettative e dei bisogni delle persone che incontreremo nella pastorale prebattisimale soprattutto se noi eh o condividiamo la parola di Dio le famiglie ricevono luce esattamente in un periodo così difficile come quello da cui stiamo uscendo o ci troviamo ancora a seconda delle nostre situazioni familiari o personali cioè se il covid ha destrutturato le nostre abitudini anche pastorali dall'altra ha fatto sì che le persone che abbiamo davanti hanno bisogno dell'annuncio come hanno bisogno del cibo come hanno bisogno dell'aria quindi ha creato dei bisogni ancora più profondi che la parola di Dio certamente può ascoltare e può accogliere un altro passaggio rispetto a quello che nel nostro buscolo viene definito come secondo incontro ovvero come è possibile anche educare alla fede i bambini così piccoli su questo punto mi sento di condividere un messaggio che ritengo molto utile offrire alle famiglie se avete fatto caso a me capita avendo accompagnato tantissime coppie al matrimonio di essere poi stato invitato nelle loro case se avete fatto caso nelle coppie delle giovani famiglie mancano quasi del tutto dei riferimenti simbolici cristiani ecco questo aspetto nell'educazione alla fede dei bambini e quindi incontrando dei genitori e dicendogli qualcosina su quello che è il loro ruolo negli anni che verranno prima del ritorno in parrocchia su questo aspetto mi sentirei di toccare questo argomento con le coppie perché vedete è diventato talmente tanto un'abitudine culturale che non c'è una malizia dietro questo fatto che manchino delle immagini sacre però nella catechesi o nell'educazione anche al trascendente che un genitore può offrire ad un figlio nei primi anni di vita il fatto che in casa ci siano delle immagini sacre è molto utile perché il bambino non solo si abitua ma anche farà domande che cos'è chi è e quindi questo aspetto non è da sottovalutare perché ripeto provocherà delle domande nel piccolo ma anche creerà un'abitudine al simbolo o al significato un ultimo passaggio prima del nostro della nostra condivisione comunitaria lo avete toccato per cui al netto di come lo lo sperimentate e lo sentite voi vi direi che è molto importante che nelle parrocchie rispetto ai servizi ci sia un ricambio da Vesco mi capita di incontrare a volte delle comunità in cui qualcuno mi dice vivo questo servizio da 30 anni e sento che mentre me lo comunica me lo comunica con felicità e passatemi il termine ma veramente non è un termine critico però è soltanto per condividere con felicità e un po' di orgoglio perché vive questo cioè come se fossimo un po' orgogliosi anche di questo ma positivamente orgogliosi eh assolutamente ecco non penso che questo in realtà sia un buon segno e e anche la mia esperienza come pastore quindi come esattamente come parroco mi ha mi ha permesso di di considerare che eh alcune generazioni dai diciamo così dai 60 anni in su nelle nostre comunità sono generazioni molto vive molto molto motivate molto forti molto più forti delle generazioni successive questo però nella dinamica relazionale fra generazioni che accedono ad un servizio purtroppo è un ostacolo perché i più giovani che sono più fragili sentono la forza del sessantenne e sentono di non di non poter corrispondere a quella forza lì e allora trovano nella sicurezza del sessantenne o dell'over 60 eh alla fine una sorta di barriera eh a subentrare anche perché questa generazione degli over 60 ha dei criteri con cui certe cose andrebbero fatte e questi criteri spesso non sono quelli che hanno eh i più giovani ma sono dei criteri così forti e così convinti che il più giovane ad un certo punto è come se non si sentisse a suo agio in quel ruolo lì sente la forza del del 60 e dell'over 60 e fa un passo indietro la mia esperienza come parroco ma che condivido con grande semplicità quindi non è assolutamente un'imposizione voglio soltanto come dire condividere questo in modo che ci si possa magari anche pensare perché capisco che ci sono poi dinamiche anche molto diverse a seconda delle parrocchie no? la mia esperienza come parroco è che in certi casi bisogna proprio dire io chiederò di fare altro al parroco cioè bisogna proprio lasciare il posto vuoto perché si crei la motivazione alla successione e al ricambio perché questo lasciare il posto vuoto motiverà chi verrà dopo a sentire la cosa come profondamente sua dico una cosa su un problema che avete sollevato ho dimenticato di accennare a questo ma sarò velocissimo il tema dei padrini e delle madrine allora da parte dei parroci mi arriva una grandissima difficoltà soprattutto da parte dei parroci che vivono nelle zone più popolari della nostra diocesi perché oltre al fatto che non ci sono padrini e madrine spesso debbono affrontare la violenza della famiglia che reagisce in modo molto brutale anche a a questi a queste definizioni del perimetro che il parroco offre quindi la vostra sofferenza è anche la sofferenza di tanti pastori ed è evidente che ci siano ormai pochissimi che abbiano le caratteristiche indicate dal diritto canonico no? da una parte la mia personale idea sulla quale cercherò di lavorare qui anche un po' in diocesi è che si potrebbe come Francesco giustamente ricordavano trasformare queste difficoltà ad essere ad avere le caratteristiche per essere padrino e madrina si potrebbe difficoltare si potrebbe trasformare in un cammino di preparazione per essere padrino e madrina così facciamo un'altra un altro percorso di evangelizzazione questa volta ai padrini e alle madrine perché no anche sulla scia o quasi contemporaneamente a quello dei genitori e quindi chissà magari si potrebbe provare a trovare una formula per cui più che avere delle caratteristiche legate allo status quo si hanno delle caratteristiche legate alla fede chissà potrebbe essere una via d'altro canto vi dico che la scelta che hanno fatto alcune diocesi anche in Italia di togliere il padrino e la madrina ha una risonanza molto negativa cioè è come se fosse una sorta di mettiamo l'ascia a terra cioè è molto interessante notare che la risonanza generale che nella chiesa si ha quando una diocesi fa questa scelta sia di fallimento ecco proprio la parola che è un po' questa quindi non mi sembra molto una via praticabile e poi considerate che siamo comunque a Roma siamo la diocesi del santo padre quindi questo tipo di scelta ovvero di togliere i padrini e i madrini a mio avviso non sarà mai molto praticabile qui da noi perché manteniamo un po' la caratteristica dell'esemplarità dobbiamo riconoscerlo capite probabilmente si potranno avere dei percorsi diversi ma su questo io mi ci metto un po' al lavoro volentieri allora ascoltiamo qualche intervento da parte vostra no io volevo dire allora innanzitutto mi scuso perché quindi a quanto pare sull'intervento sulla rottamazione siamo su due filoni opposti e quindi adesso ci penserò anch'io personalmente molto seriamente però le volevo chiedere due aiuti allora uno per esempio noi nel gruppo ne abbiamo parlato abbiamo tante coppie non sposate che vorrebbero partecipare alla messa del battesimo del figlio e noi diciamo loro che non possono fare la comunione e quindi questo perché come diocesi di Roma riteniamo che sia importante e infatti troviamo tanta resistenza soprattutto nelle coppie multietniche più che multietniche che vengono da altri paesi come il Brasile Venezuela eccetera dove questo a quanto pare nelle loro parrocchie non viene sollevato quindi volevo una parola su questo e l'altra e se ho capito bene parliamo di comunione di fare l'eucaristia fare la comunione durante la messa quindi non più battesimi cioè i genitori vogliono comunicarsi nel giorno della comunione dei figli ma non hanno le caratteristiche per del battesimo proprio perché noi facciamo i battesimi noi facciamo i battesimi nella messa ok 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 questo è il punto ok ok e quindi una parola su questo e anche perché vabbè e questa è una cosa e poi l'altra perché non ne ho parlato col mio parroco quindi non lo so è lui che fa il primo screening di chi viene a chiedere il battesimo di chi sono i padrini non siamo tanto noi e quello sulle coppie monogenitoriali cioè come qual è l'indirizzo le coppie monogenitoriali è una contraddizione no vuole dire monosessuali no una una famiglia non la coppia monogenitoriale la famiglia monogenitoriale sulla famiglia monogenitoriale ok omosessuali qual è l'indicazione o due maschi o due femmine le coppie omosessuali sì sì ok ok grazie allora un attimo solo è interessante perché non ci si capisce più niente i due punti la partecipazione alla comunione nel momento in cui il battesimo viene celebrato nella messa come regolarsi e i figli di coppie dello stesso sesso poi un'altra qui c'era una mano alzata sono Fulvio sono della diocesi Porto Santa Ruffina sono un infiltrato ascolta un infiltrato benvenuto benvenuto grazie grazie ha perfettamente ragione che la parola di Dio è di estrema importanza assolutamente è per questo che io sia nella preparazione ma ho visto che anche è un soggetto che probabilmente non è uscito fuori spiegare l'eucaristia ma l'eucaristia è in senso lato cioè spiegare l'eucaristia che significa ascolto della parola di Dio e comunione la maggior parte delle persone questa ancora non l'ha ricevito l'ascolto della parola di Dio è talmente importante che durante la messa le mense sono due in realtà quindi è l'ascolto che toglie anche i peccati questo impoverimento spirituale che noi abbiamo adesso è dovuto proprio a questo perché noi diamo in un certo senso mi lasci la parola più importanza alla comunione o che non all'ascolto la maggior parte delle persone guarda caso entrano dopo un quarto d'ora venti minuti e ricepiscono questa addirittura si mettono a leggere quello che non hanno ascoltato o e peggiorano ancora la situazione quindi ecco secondo me ho visto una slide infatti che riportava questo l'eucaristia è il centro noi siamo battezzati per l'eucaristia la seconda cosa sono pienamente anche io ho sette persone che per aiutare di fare da padrina a madrina il battesimo stiamo facendo i cinque incontri proprio per questo sagramento che è simile al battesimo poi in realtà non l'hanno vissuto loro ma è chiaro come in confermazione loro lo fanno insomma ecco tutto qui grazie grazie qualcun altro vuole chiedere qualche cosa prego la parrocchia Santa Maria Madre di Redentora è giusto come diceva il Vesco Don Daniele ricordarci noi prima di incominciare a fare questi incontri di fare una bella preghiera perché avremo un elemento in più lo spirito santo uno è il matrimonio che siamo in due ma c'è anche il signore è fondamentale per diventare a chiedere questo supporto questo aiuto noi poi ricordiamo nella 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 catechesi cercando di mettere tutto il cuore possibile praticamente Antonio mettiti bene è cerchiamo di ricordare la nostra catechesi oltre a farla col cuore praticamente come ha detto Don Daniele praticamente il simbolo il simbolo si è fondamentale io personalmente ogni tanto ricordo a loro se hanno quel famoso libro a casa la Bibbia e anche se praticamente è un libro vecchissimo ma secondo me è quello più attuale che esiste al mondo io ricordo infatti che ogni tanto aprendolo anche a caso in qualsiasi parte praticamente ci si ritrova ci si ritrova mi si mi ci ritrovo io e credo che chiunque lo legga ci ritrova in quelle parole in quel contesto che secondo me è fondamentale più di qualcuno dice sì noi ce l'abbiamo alcuni dicono sì vabbè ce l'abbiamo lì nella libreria oppure abbiamo la polvere beh faccio io spolveratelo apritelo e vedete un pochettino se ci ritrovate e poi ricordiamo sempre ai padri i 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 padri non solo di diciamo di essere presenti quel giorno e di coinvolgerli nel rito che secondo me spiegargli bene il rito serve molto a far vivere sia a chi battezza il bambino sia i padri che loro sono parte attiva cioè però lo debbano vivere come padri se fossero loro in prima persona è come se lo stessero rivivendo ritirando fuori quella candela che gli è stata data quel giorno ok che mi auguro sia sempre accesa ma almeno la possono o riaccendere oppure fare un fuoco grazie qui davanti c'era la la direttamente andiamo per vicinanza volevo dire sono Livia volevo solo dire due spunti uno è mi ha colpito molto quello che diceva il vescovo perché la segretaria del gruppo non ha avuto il tempo probabilmente di dirlo però noi abbiamo un forte gruppo diciamo di post battesimale che poi si porta si allunga fino anche al catechismo dei ragazzi perché da noi c'è qualcuno che diceva che fanno andare i catechisti dei battesimi a parlare a quelli delle preparazioni dei matrimoni il parroco prima e quello attuale comunque quando escono dalla preparazione al matrimonio convogliano i due fidanzati futuri sposi la proposta è quella di entrare in questo gruppo delle giovani famiglie che è da molto prima del 2012 oggi sono 62 partecipanti su whatsapp sono molto legati e si aumenta sempre più perché la proposta è sia per coloro che fanno le preparazioni al matrimonio sia per coloro che battezzano i bambini e non vengono dal gruppo delle giovani famiglie di andare nel gruppo delle giovani famiglie e quindi li incontrano chi questo percorso l'ha già fatto e quindi si aiutano fra di loro e poi ci sono le tematiche e quindi quello che diceva Don Cavallini ieri sera c'è la tematica che gli si propone che sono varie tematiche da due bibliche su otto e poi una medica una psicologica una dell'avvocato perché nelle famiglie ci sono tutte queste realtà e tutti questi temi affrontati alla luce del Vangelo quindi persone scelte che vengono a presentare questi argomenti in modo che loro poi nel momento successivo quando ti mangiano insieme perché c'è il momento del mangiare parlano fra di loro condividono fra di loro sul tema e su tutto quello che loro vogliono ed è una volta al mese e poi c'è un altro gruppo che è più su quello che diceva il Vescovo che è il fatto di donargli la parola di Dio cioè che tra loro e la parola di Dio a un certo punto non ci sia più il catechista quindi nel nostro gruppo chi guidava il gruppo parlava che noi siamo le reti e in qualche modo li intercettiamo e li portiamo alla fede e quindi è questo e nel gruppo è il gruppo dei genitori che cammina parallelamente ai bambini che fanno il catechismo e va avanti da nove anni e quindi e da questo sono nati anche dei frutti tipo da una delle famiglie il bambino poi è cresciuto ha fatto il catechismo è rimasto a fare il chierichetto per volontà e non perché lo doveva fare nell'anno in cui e adesso il prossimo anno vuole fare il catechista e quindi io che mi occupo io diciamo ecco la parte mia è che io mi occupo particolarmente del percorso dei genitori da nove anni però sono da sola e questo è brutto perché è una cosa bella tutti questi due gruppi sono una ricchezza perché tu fai in modo almeno il mio compito è fare in modo che ci sia condivisione della parola i silenzi sono loro in qualche modo tra loro e la parola e quindi io devo permettere che questo avvenga e poi escono fuori delle cose belle cioè sono loro che testimoniano a me però ecco io vorrei che questa cosa si potesse divulgare potesse svilupparsi perché ecco sono da sola perché il parroco all'inizio ha avuto l'idea e mi ha fatto fare questa cosa io la faccio la faccio con passione mi piace per servizio e vedo i risultati ma che non sono miei sono loro che crescono e mi piacerebbe appunto e grazie ultimo intervento qui davanti volevo semplicemente chiedere un consiglio se per lei secondo quello che pensa lei è meglio celebrare i battesimi all'interno di una messa oppure a volte noi lo facciamo anche di pomeriggio in orari che sempre un po' sabato domenica però io ritengo che quella sia una cosa che non riguarda soltanto la famiglia ma l'intera comunità quindi secondo il mio parere andrebbe fatta durante la messa anche perché inizialmente magari i gruppi erano anche molto numerosi quindi magari durante la celebrazione si allungava anche molto la messa adesso facciamo magari uno due e tre massimo battesimi per volta quindi secondo me si potrebbe fare almeno nel nostro caso non so le altre comunità grazie allora comincerei da questo ultimo punto e non non penso che sia molto utile darci una legge definita su questo penso che sia molto utile alternare questa proposta cioè nell'arco del calendario previsto per la celebrazione dei battesimi nella parrocchia poter inserire degli appuntamenti dentro la messa e degli appuntamenti fuori quando c'è stato un po' il tempo del covid le comunità hanno per lo più preferito celebrarlo fuori dalla messa anche perché avevamo degli ingressi contingentati nella chiesa non potevamo essere più di tanti quindi è evidente che quel periodo ci ha portato a celebrarlo molto di più o quasi esclusivamente fuori della messa adesso non ci sono problemi a rientrare invece in questo secondo ambito quindi permettere che anche la comunità accolga il nuovo bambino e si si prenda in carico di proteggerlo con la preghiera con l'intercessione e con l'affetto quindi penso sì che sia molto utile celebrarlo dentro la messa anche per la comunità stessa ma io metterei in calendario perché è bene fare un calendario delle celebrazioni metterei in calendario l'una e l'altra possibilità è evidente che spesso quando abbiamo di fronte delle coppie che hanno delle diciamo non hanno ricevuto un'educazione alla fede la forma senza la messa possa essere più adatta perché più faticosa per una serie di motivi la partecipazione durante la messa ma su questo non sarei io a decidere non metterei io un filtro prima mettere le due possibilità e lasciare poi la coppia anche libera di scegliere a quale delle due aderire a mio avviso è il criterio migliore e sulla comunione qualora si celebri il battesimo nella messa sulla comunione dei genitori che magari non hanno le caratteristiche a mio avviso è molto importante cogliere il livello di motivazione che c'è e da quel livello partire perché c'è per questo io mi confondevo nella comprensione perché questo tema è anche molto ricorrente quando si fa la prima comunione dei bambini e ci sono delle coppie che vorrebbero comunicarsi o sanno o non sanno perché a volte neanche sanno che invece non potrebbero quindi io penso che è molto importante in questo caso far parlare la coppia con il sacerdote con un sacerdote perché un po' sulla scia della morisletizia è fondamentale che il sacerdote si renda conto di qual è il livello effettivo di fede e perché no anche di frustrazione perché questo pure un pastore lo deve tenere presente il livello di frustrazione che si crea nel fatto di non potersi comunicare in un momento in cui un figlio riceve un sacramento a mio avviso il livello di frustrazione è un buon indicatore del livello della fede cioè spesso la sofferenza più grande in chi vorrebbe ma sa di non potere dice molto della della fede di quella persona della fede sincera che magari si trova a vivere in condizioni che non permetterebbero di ma che sentono struggimento interiore per questo e nell'ottica del discernimento che il pastore deve operare cogliere il livello di frustrazione è un criterio molto interessante molto utile però affiderei questo ripeto ai pastori perché c'è bisogno di colloqui piuttosto approfonditi quindi non vissuti di fretta senza ansia senza imposizioni in cui ci sia una libertà da ambo le parti e alla luce di questi colloqui operare un discernimento in questo senso che in alcuni casi potrebbe anche essere la fai in quest'occasione però sappi che non puoi farla per sempre per dire si potrebbe immaginare anche una formula di questo tipo ma questo deve essere il pastore il presbitero a definirlo e invece riferimento a cosa si fa quando come chiedeva don Andrea se abbiamo ricevuto la richiesta da parte di coppie dello stesso sesso il criterio è questo ed è un criterio che ci proviene anche da una da una consultazione con il nostro ufficio matrimoni della diocesi che come sapete unisce alla pastorale matrimoniale anche la competenza canonica su questi argomenti allora il battesimo per un bambino di una coppia omosessuale si fa si celebra e al momento però si scrive sul registro dei battesimi al momento della registrazione dell'atto soltanto il nome del genitore naturale quindi di colui che ha dato il seme o l'ovulo e si chiede che il padrino e la madrina siano una coppia eterosessuale sposata quindi debbono essere il padrino e la madrina sposati fra di loro quindi una coppia eterosessuale sposata è bene che si preveda un cammino forse piuttosto personalizzato di preparazione al battesimo e si predilige la forma celebrativa privata chiedendo però prima di tutto alla coppia di non fare di questo percorso un atto propagandistico meglio meglio sì celebrano il battesimo quindi in forma loro con gli amici i parenti quindi non durante la messa domenicale oppure non in una celebrazione con altre coppie con altri bambini si privilegia la personalizzazione e questa al momento è la modalità nel senso che la chiesa anche su questo aspetto sta muovendo i primi passi quindi si sceglie una formula come si dice progressiva penso che sia anche legata ad un criterio di prudenza cioè fare dei passi un po' alla volta tenete presente che all'interno della nostra comunità ecclesiale abbiamo una forte tensione su questo tema abbiamo sensibilità molto diverse all'interno della chiesa stessa da chi si straccia le vesti a chi invece no e quindi è molto delicato anche per preservare la diciamo la comunione senza mancare né alla carità né alla verità no quindi sono cioè è un tema attualmente abbastanza divisivo su cui la chiesa sta lavorando ma faticosamente e con tensioni interne no e quindi anche nei singoli casi bisogna diciamo da un lato appunto andare incontro al valorizzare tutto il bene che c'è tutta la cosa che c'è e dall'altro stare attenti a non diciamo a non creare una uno strappo una una rabbia in alcune persone che non sarebbe utile almeno per ora cioè i tempi di maturazione anche della coscienza ecclesiale sono un po' un po' lenti no ci vuole tempo per maturare poi delle posizioni condivise su alcuni temi e questo è uno dei temi certamente quindi per questo si privilegia la forma la forma privata penso che ci si regola no sulla base del no perché c'è rispetto alla coppia omosessuale c'è il tema oltre a tutto questo che diceva Don Andrea del fatto che questo è un tema che io trovo molto interessante perché non è un tema se volete etico ma è un tema spirituale è un dato spirituale ovvero in questo contesto attuale in cui noi ci troviamo ad operare un discernimento comunitario ecclesiale a tutti i livelli perché qui questo tema riguarda tutti coloro che ricevono i sacramenti tutti coloro che li chiedono tutti coloro che richiedono un accompagnamento e così via se per certi versi è molto importante che una coppia omosessuale si prometta fedeltà reciproca cioè che ci sia il desiderio di stabilire una relazione che permanga nel tempo questo è un dato importante perché considerate che la tenuta delle relazioni è sempre un valore l'essersi fedeli lo stabilire un patto di reciproca alleanza è sempre un valore sempre piuttosto che la solitudine piuttosto che i rapporti a intermittenza e così via quindi se questo è un dato comunque importante l'idea di voler fare di voler formare un nucleo che stabilmente nel tempo si ami d'altro canto c'è una riflessione da fare sul fatto che a livello naturale la generatività è data dall'uomo e dalla donna allora perché parlavo di un tema spirituale più che etico o forse primariamente rispetto al passaggio etico perché la Chiesa sta riflettendo anche sul fatto che ogni volta che noi evangelizziamo facciamo catechesi noi poniamo il tema dei limiti come un tema utile per la vita spirituale delle persone cioè l'essere consapevole del fatto che io questo sono e più di questo non posso fare o io questo sono e io questo devo accogliere devo accettare è molto utile l'idea di avere dei figli con magari l'utero in affitto che capite si avvicina molto al dato di fatto che una coppia omosessuale possa avere dei bambini e quindi possa chiedere per i bambini il battesimo è un tema interessante l'idea di dire noi ci vogliamo bene ci amiamo ci promettiamo fedeltà ma siamo due uomini e dunque non possiamo dare vita fra di noi ad un figlio perché la natura non ce lo permette ecco questo percorso è un percorso che normalmente nella Chiesa noi favoriamo sempre a tutti i livelli cioè qui vorrei non parlare della coppia omosessuale in sé ma diciamo pormi dal punto di vista di chi fa catechesi fa annunci fa omelie sempre il senso del limite è un senso molto interessante perché ha a che fare con il senso della creaturalità la forzatura del limite dice molto della consapevolezza della creaturalità e dunque della differenza che c'è fra l'immanenza e trascendenza fra l'essere figlio e l'essere padre l'essere creatura e l'essere Dio ecco su questo aspetto a mio avviso c'è un passaggio molto interessante sul quale noi possiamo riflettere e che penso vada molto messo a fuoco ecco una nota un'ultimissima nota a livello celebrativo ricordatevi sempre che nel caso in cui si celebra voi fate abitualmente i battesimi il sabato pomeriggio e quindi dite ma sono solo le coppie dei battesimi non c'è l'elemento comunitario si può recuperare in un altro come ci siamo detti si può fare una presentazione dei bambini che vengono battezzati in quel mese prima dei battesimi oppure si può fare dopo la messa di ringraziamento è comunque bello fare un recupero comunitario quando i battesimi non sono come di sol come in moltissime parrocchie non sono nella celebrazione eucaristica bene allora grazie a tutti per la partecipazione e concludiamo l'incontro grazie a tutti grazie a tutti